Partita difficile, là davanti c'è stato da sgomitare, partita spigolosa. Sì, in Mista abbiamo provato un altro modulo, ho lottato tanto, peccato, ci rifaremo. Cosa non è girato là davanti? Facevate fatica a procurarvi vere occasioni da gol, nel secondo tempo meglio, però è veramente un peccato questo risultato. È davvero un peccato, anche perché nel secondo tempo abbiamo un altro gioco molto migliore e ci è mancato, secondo me, più un fraseggio tra di noi e abbiamo cercato poco la porta, ma ci rifaremo mercoledì.